Ciao a tutti! Noi oggi ci troviamo al festival giapponese con il nostro amico giapponese e tra un po' ci raggiungeranno anche altri amici e spero si senta bene, ci sono cosplay, ci sono tanti stand dove possiamo prendere da mangiare e vi porteremo con noi! Il festival si teneva in questa location all'aperto, una sorta di distretto dello shopping bisognava comprare dei ticket per poter acquistare cibo e bevande dai vari stand Il primo stand a cui ci siamo fermati era quello dei Gyoza che sono dei ravioli giapponesi ripieni di carne o verdure Abbiamo assistito anche a diverse esibizioni di cosplayer e musicisti Secondo stand invece è quello dei Gyoza che si tratta di un po' di più e poi ci sono dei Gyoza che si tratta di un po' di più cotoletta di gamberetti. E qui io e la mia amica stavamo guardando un po' di kimoni bellissimi e coloratissimi. E questi invece sono tutti gli accessori per i capelli e le tipiche acconciature giapponesi. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.